Praticamente questa notte ho dormito, aspetta, non ho pensare, niente, proprio zero, neanche un minuto ho dormito e sono molto stanco però ho il cuore pieno di felicità perché quello che abbiamo raggiunto con i miei fratelli è veramente un traguardo impensabile. Sicuramente è un'esperienza che difficilmente dimenticheremo in questa vita, abbiamo affrontato tante cose belle, tante cose brutte, pari virgolette. Quando Catalan ha pronunciato il nostro nome è stata una gioia immensa, è davvero incredibile perché è stata una competizione durissima, veramente combattuta fino alla fine, tutte le ragazze sono delle cantanti incredibili. Non l'abbiamo capito da sempre che c'era la possibilità di farcela e la conferma ovviamente l'abbiamo avuta ieri. Alvaro è una persona umilissima, una persona fantastica e credo che sia forse una delle persone, una tra le persone più belle che abbiamo conosciuto nella mia vita. Grazie a nome di Soul System per tutto il lavoro che lei ha fatto, per il nostro producer e grazie Alvaro sei veramente immenso, la tua umiltà è stata ripagata e grazie di tutto. Guarda il momento più bello di tutta questa edizione è stato quando all'ultimo, pensando a Catalan ha detto Sooooooo! Ho sentito solo quello. A partire Alvaro era molto felice, era molto contento, il consiglio bellissimo che ci ha dato è di rimanere sempre a noi stessi perché alla fine è quello che ci ha portato fino a qua. Il momento più difficile è quando eravamo rimasti in tre e uno doveva andare a casa, perché raga ieri eravamo tutti forti. Di questo percorso ci ricorderemo sicuramente di Alvaro, di Antonio e di tutti i concorrenti che hanno partecipato quest'anno, che hanno fatto veramente delle performance stratosferiche. Beh, in Loft sicuramente ci ricorderemo di Lumi, Lumi è stato un fratello per noi e sicuramente quindi le Zanfan che hanno, anche se sono andati via alla seconda puntata, abbiamo legato molto bene. Tra i progetti per il futuro di Soul System sicuramente intanto ci sarà molto lavoro come al solito perché comunque è un punto d'inizio questo, non un punto d'arrivo e sicuramente ci metteremo a lavorare sul nostro disco. A noi richiede sempre un commento che ci ha fatto Manuel e Agnelli ancora nei primi live ed è semplicemente questo, voi siete pronti. E questo è uno dei migliori complimenti che uno non ci possa fare. Noi di Soul System salutiamo tutti i concorrenti di X Factor numero 10 grazie di questa bellissima esperienza. A nome di tutti i Soul System grazie per chi ci ha supportato e anche per chi ci ha supportato magari. Suaga!